Mentre ad Ostia Antica andava a fuoco il mezzo della linea 04 ed il fumo invadeva la via del mare e la parallela via dei Romagnoli, ad Acilia si è tenuta la tappa del Raggi Tour, nel quale la sindaca ha presentato i 20 nuovi autobus che percorreranno le strade del decimo municipio. Lunghi 10 metri e con motore a gasolio, sono dotati di aerea condizionata, pedana per disabili e 21 posti a sedere. Abbiamo lottato per salvare Atac e mantenerla pubblica, ha dichiarato la sindaca, ma la fatica è stata ripagata. Siamo orgogliosi di poter dire che l'azienda sta rinascendo, conclude. Entro la fine del mandato metteremo su strada oltre 700 nuove vetture. Ad accogliere la flotta, nell'area parcheggio tra via di Saponare e via Domenico Morelli, anche la presidente Giuliana Di Pillo, che ha avuto modo di effettuare un giro di prova sul futuro tragitto delle linee 03 e 065. È un momento molto importante per questo municipio e specialmente per le zone dell'entroterra, ha commentato Di Pillo. I cittadini che sono qui ne sono l'esempio.